Ciao a tutti ragazzi io sono Razor e benvenuti in questo nuovissimo video Allora intanto volevo scusarmi con tutti voi dato che circa da due settimane che non mi porto nessun video sul canale Non mi faccio nemmeno sentire sulla pagina facebook eccetera eccetera Ma per un motivo ben chiaro in pratica dato che questo è l'ultimo periodo dell'anno scolastico Sto dedicando tutto il tempo allo studio e in poche parole non avevo nemmeno voglia di registrare Perché ultimamente il vostro feedback era abbastanza scrauso e quindi ho deciso appunto di non portarvi nessun video Adesso che sono ritornato tra virgolette a portarvi appunto i miei video spero che il tutto vada un po' meglio E niente come solito lasciate un like e magari ditemi nei commenti cosa potrei appunto fare nel prossimo episodio di questa serie Dato che questo è il settimo episodio della serie Justcraft quindi very very good E niente nell'episodio di oggi andremo a fare un'altra farm ovvero la farm di canne da zucchero Adesso vi vado a spiegare un problema In pratica come potete vedere ho già tutti i materiali pronti perché in pratica questo video l'avevo già registrato Ma diciamo che non mi era venuta la farm e quindi sono qui la seconda volta appunto a riregistrare questo video Comunque iniziamo subito con questa farm Dobbiamo appunto avere un ripetitore un comparatore di pietra rossa Poi ovviamente vabbè prendo un po' di terra che tanto non manca mai E vabbè perfetto ok Abbiamo bisogno di pistoni Di secchelli per l'acqua Degli hopper Ne ho bisogno di uno non so perché ne ho due però vabbè Di una cassa ovviamente Poi ovviamente delle canne da zucchero Perfetto La pietra rossa Il vetro La sabbia E niente direi che abbiamo tutto Anzi no ci serve ovviamente il legno per appunto fare la struttura Quindi una volta che abbiamo preso il materiale direi di andare appunto a creare la nostra farm Direi di farla tipo qui Dato che poi farò anche la stradina quindi si qui ci sta very very good Quindi boh facciamola Si facciamola qui quindi Dobbiamo scavare una fossetta di 7 Quindi 1 2 3 4 5 6 E 7 Perfetto Qui ci sarà la nostra farm di zucchero Di canne da zucchero scusatemi E niente ragazzi Allora mentre che scavo Boh Non so Parlatemi un po' Ditemi cosa è successo ultimamente nella vostra vita Tutto bene Si spera Intanto qua mettiamo la sabbia Perché qui appunto dovremo creare Cioè dovremo appunto piantare le nostre canne da zucchero Ovviamente voi potrete fare questa farm Di qualsiasi grandezza Io faccio di 7 Che è il numero che sta abbastanza bene Comunque Eh cosa dobbiamo fare Adesso dobbiamo fare il centro Che sarebbe esattamente in questo punto Si esattamente E niente Qui in pratica dobbiamo posizionare l'hopper Esatto avete capito bene Quindi scaviamo un attimino E in pratica Dato che qui ci sarà il ruccello d'acqua L'hopper lo metteremo esattamente così E direttamente sotto metteremo la nostra cesta Questa qua esattamente Quindi rimettiamo subitissimo così Perfetto Poi ovviamente qui faremo una scalinata Sarà un po' tutto più bello Esattamente E niente ragazzi Allora adesso cosa dobbiamo fare Dobbiamo fare la struttura Che circonderà il tutto Quindi dobbiamo fare una roba simile a questa Perfetto Posizioniamo tutto così Ovviamente anche qui potete sbizzarrirvi Con i vostri materiali Io ho usato il legno Perché è l'unico che ho Non ho Cioè Si poteva usare l'arenaria Che sarebbe veramente perfetta Però Vabbè ragazzi Non ci posso fare nulla E niente Allora adesso cosa dobbiamo fare In pratica Adesso dobbiamo andare a prendere dell'acqua Quindi andiamo dal nostro ruccello molto figo Cioè dal nostro pozzo infinito Dobbiamo prendere l'acqua E dobbiamo fare i due ruccelli Quindi andiamo subitissimo qua Ok Perfetto Mettiamo un ruccello di qua E l'altro Lo mettiamo dall'altra parte In modo da fare Appunto Questa corrente Che scorre verso Verso la parte centrale Dove appunto c'è C'è l'hopper Quindi facciamo così Perfetto E qui tipo direi di Di Mettere la terra Non so No 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 Che cavolo sto facendo Non ha senso Dobbiamo fare una cosa molto figa Però vabbè Ci penserò Ci penserò dopo Esattamente Adesso Dobbiamo finire la nostra costruzione Quindi facciamo benissimo così Sì esattamente E cosa dobbiamo fare Dobbiamo piantare le nostre canne da zucchero Quindi Prendiamole qua E piantiamole Esattamente in questo Modo Ok Ok perfetto E adesso Dovremmo andare a posizionare I pistoni I pistoni per ogni canna In questo modo Ok Ok perfetto E Ora Potremmo appunto Diciamo quasi finire la costruzione Intanto mettiamo tutto questo Qua tipo Direi di mettere il vetro Giusto per rendere il tutto Molto più figo Quindi Appunto Mettiamo il vetro Così almeno potremmo anche Vedere le nostre canne da zucchero Perfettamente Ok Qui poi appunto farò Farò la pulizia Però non vi preoccupate per ora E Niente In pratica Adesso Parte La parte Cioè inizia la parte Un po' più difficile E Cosa dobbiamo fare Allora In poche parole E Come potete vedere Sì esattamente E In questa parte Dobbiamo mettere un altro pistone Messo però in un altro modo Un pistone Che appunto Dovremmo metterlo Nella parte Rivolta verso l'alto E qui invece Dovremmo mettere Una fornace Esatto Avete capito bene No adesso non c'ho la fornace Forse devo andarla a craftare Cioè adesso vedremo subito Aspettate un momento E No infatti la fornace Non ce l'ho E Vabbè dai La facciamo sul momento Velocissima Quindi prendiamo Il pietrisco Facciamoci questa fornace Questa fottuta fornace Ok Mettiamolo in questo modo Cibo non ne ho vero? E che cavolo E Ero convinto di avere il cibo Ah eccolo qua Infatti eccolo qui Quindi Mettiamo a posto questo E prendiamoci subito Le bistecche Mentre mangiamo Sì In effetti Dovrò farmi anche Una farm di cibo Perché se no Non ha senso Comunque vabbè Adesso dobbiamo Finire la cosa Quindi Dobbiamo mettere La fornace In questo modo E qui Attenzione Dobbiamo mettere Un blocco di sabbia Perché se no Il tutto non funzionerà Quindi mettiamo Un blocco di sabbia Ok E qua continuiamo Con la nostra creazione Che farà esattamente In questo modo Qui Di conseguenza Dobbiamo mettere Il nostro comparatore In questo modo Lo mettiamo qui Poi Dobbiamo fare I circuiti di pietra rossa Quindi Dobbiamo fare così E qui dobbiamo Alzare il tutto Perché appunto Dobbiamo fare La cosa qui Il tettuccio Tra virgolette Quindi Dobbiamo alzare qui Così Perfetto E dobbiamo Completare appunto La nostra Cosa Eh Ok Ho già Ho già failato Andiamo a prendere subito Il coso Perfetto Ok Mi sono incastrato Come cavolo Faccio Ah ok Perfetto Ok Finiamo questa struttura In questo modo Ok Poi ovviamente Doviamo finire lì Ma adesso Mi concentro a mettere La pietra rossa Mettiamola in questo modo Poi mettiamo Il ripetitore Qua Esattamente qua Per diciamo Aumentare il segnale E poi dobbiamo Distendere la pietra rossa Fino all'ultima Canna da zucchero Esattamente In questo modo Ora Possiamo finire La nostra costruzione Ovviamente Come al solito Mi mancano Gli ultimi blocchi Tanto qua Completiamo un po' La cosa Dato che è un po' Una schifezza Ok Perfetto In questo modo E niente Aspettate un attimo Adesso Dobbiamo fare Un'altra cosa Importante In pratica Nella fornace Doviamo mettere 64 blocchi di terra Che io in questo momento Non ho Quindi andiamo subito A prenderli Sempre se ce li ho Ok Ce li ho 64 blocchi di terra E questo ci permetterà E questo ci permetterà Appunto di far funzionare Il tutto Adesso Aspettate un momentino Ok Stiamo qui Stiamo per completare Quindi Apriamo la fornace Mettiamo questo qui E come potete vedere La pietra rossa Si accenderà Ora Clicchiamo qui Per accendere il tutto Finiamo così E Il nostro La nostra farm Sarà completa È una farm Scusatemi Completa al 100% Dato che Non dovremo appunto Scacciare nessun pulsante Per farla funzionare Intanto qua ho sbagliato Perché non ho finito Dobbiamo finire il tutto Perfettamente E Niente Allora Scusate Qui adesso dovrò fare tipo Qualcosa per fare Eh Ok Perfetto Non dovrebbe Cioè non funziona così Ok ragazzi Ho trovato il problema In pratica Avevo messo male l'hopper E di conseguenza anche la cesta E quindi Non mi portava appunto Le canne da zucchero Nella cesta Adesso vi faccio vedere subito Il funzionamento In pratica Se metteremo appunto Una canna da zucchero In questo modo Aspetta un attimo Ho sbagliato Se metteremo appunto La canna da zucchero In questo modo In questo modo Scusatemi L'acqua la trasporterà Nell'hopper E di conseguenza Nella cassa Come potete vedere Ovviamente Ripeto che questa è una farm Automatica al 100% Quindi non c'è bisogno Di andare a mettere Le canne da zucchero Quando appunto Quest'ultime Cresceranno da sole E il tutto Il tutto avverrà Automaticamente Niente Credo che per questo video È tutto Spero vi sia piaciuto Anche se ci sono stati Dei piccoli fail Ma Vabbè E niente ragazzi Allora come solito Mettete un bel mi piace Commentate E iscrivetevi al mio canale Noi ci vediamo In un prossimo video Da Razer è tutto Bye bye Bye